bentornati a tutti ragazzuoli in questo nuovo video come avrete visto ci siamo spostati oggi sul th 13 inizieremo a guardare qualche tattica su questo th dopo di che mi dovrà purtroppo fermare per un periodo perché come vedete io sto per passare di th appena avrò finito le ultime bombe che mi sono rimaste quindi sono rimaste soltanto qualche bomba quella da maxare perché io maxo anche le bombe maxo tutto passerò di th quindi ci sarà mi serviranno un po di mesi penso un mesetto non lo so dipende quanto impiegherò a maxare gli eroi e le truppe principali mi servirà un po di tempo prima di portarvi altre tattiche intanto oggi iniziamo a guardarci una tattica cioè l'alo che avete magari già visto su qualche video che vi ho portato un po di giorni fa se non l'avete vista oggi ve la faccio vedere e vi spiego un po come funziona io ho già detto che non so utilizzarla benissimo ancora perché ci sto ancora lavorando dietro perché non è facile come tattica da utilizzare ma comunque le basi le conosco più o meno ora non è che sono una pro player che conosco so tutto ma comunque il l'abc diciamo di questa tattica la so eccola qui la tattica ovvero una blizzlalo questo è l'esercito che utilizzo io con cui mi trovo bene andiamo ad analizzarlo abbiamo oltre le truppe principali ovvero il massino le mongolfiere possiamo vedere un minestrone di truppe quel minestrone di truppe ci servirà per andare a pulire il villaggio sia prima che dopo aver piazzato le mongolfiere quindi ad esempio i super barbari con il golem di ghiaccio ci servirà per fare entrare i nostri eroi il re e la regina anzi e la campionessa che andrà a ripulire un po una parte di villaggio insieme al re e la regina poi abbiamo i sgherri invece che andranno invece a pulire dietro le mongolfiere che andremo a buttare subito dietro le mongolfiere questo per aiutarci un po con i tempi e rischiare per non rischiare anzi di failare per il tempo poi abbiamo nelle pozioni 5 invisibilità che andremo a posizionare sui super maghi che abbiamo nel dirigibile i super maghi ci serviranno per pulire un pezzo di villaggio io alcune volte lo utilizzo per pulire il direttamente sul municipio oppure in altri casi lo utilizzo per pulire in parti particolari del villaggio quindi ad esempio in una parte centrale dove ci sono diverse inferno attaccate e dove quindi secondo me riesco a fare tanto danno in quella parte lì un'altra cosa che io faccio non perché sia giusto o sbagliato ma secondo me perché non sono capace è quella di andare a togliermi subito il municipio ci sono persone che il municipio lo lasciano alla fine soprattutto se sta da parte in un angoletto magari del villaggio lo lasciano alla fine ci vanno con le mongolfiere siccome io ancora non sono capace di gestire benissimo queste mongolfiere preferisco andarci con gli eroi oppure vi ho detto poco fa che ci vado con il dirigibile e i super maghi dentro ma dipende se vedo che potrebbe togliere potrebbe fare quindi una buona percentuale ok ci vado con i maghi altrimenti con gli eroi ora vedete voi potete anche fare come vi ho detto poco fa cioè che ve l'ho lasciato alla fine e ci andate con le mongolfiere se magari è stato all'inizio però ve lo sconsiglio perché non è facile da gestire quindi rischiate di far morire tutte le mongolfiere tutte insieme poi a parte questo direi di andare a guardarci un villaggio e per per andare ad analizzare quindi questo villaggio e iniziare con il nostro video buona visione a tutti ecco il nostro villaggio da attaccare allora dunque direi di partire due secondi ok di partire più o meno qui con il dirigibile il dirigibile punterà questa traiettoria qui anzi un pochino più bassa ecco vorrà andare il dirigibile per questa direzione noi lo faremo esplodere in questa zona più o meno di modo che toglierà sia questa inferno la torre dello stregone toglierà anche il volanò probabilmente e soprattutto andrà ad eliminare l'aquila che è quella un pochino fastidiosa come difesa comunque vabbè anche le altre per carità però l'aquila è una di quelle difese fastidiose poi con gli eroi invece pensavo di fare entrare la regina qui e fargli fare questa stradina qui in modo che toglie questo scagliapietre questo diverse difese aeree e invece il re sto pensando di farlo girare nella parte esterna la campionessa sto pensando invece di farla entrare qui la campionessa quando avrà finito qui se tutto andrà bene passerà in quest'altro quadrato e ci siamo fatti un bel po di pulizia questo se tutto andrà secondo secondo i nostri piani a questo punto io direi di passare direttamente all'attacco perché altrimenti non ci capiamo più niente perché qui di ipotesi ce ne dovremo fare diverse buona visione a tutti ok ci siamo via massino davanti al dirigibile per coprirlo da tutte le difese circostanti altrimenti non arriva nel punto da noi diciamo indicato da noi studiato diselo come volete comunque non vi deve morire troppo presto ma neanche troppo tardi quindi dovrete andare voi a farlo esplodere non dovete aspettare che esplode da solo perché altrimenti vi va oltre magari se lo utilizzate bene se lo ce la se lo coprite bene vi va troppo lontano ed è inutile vi deve andare nel punto in cui stabilite voi quindi fatelo esplodere voi quando il momento giusto veleno nel frattempo ma la sono dimenticata tranna chiacchiere un'altra andava messa comunque prima sugli sui super sgherri proprio appena arrivavano vabbè però comunque l'abbiamo sempre buttata dai meglio tardi che mai avete visto che ho un'invisibilità in più l'ho lasciata per andare ad aiutare la regina o la campionessa no andrà ad aiutare invece la campionessa molto probabilmente la regina ormai sta per morire la campionessa invece magari mi potrebbe fare un pochino più comodo dai forse ultimo colpo ok bene iniziamo con la lalo dai forza ok via ora la parte più rognosa è la parte centrale dove c'è il municipio mannaggia dai sbrigatevi ok 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 ce l'abbiamo fatta dai 40 secondi datevi una mossa no non ci credo ma cosa ci fa ancora la regina viva porco di quello schifo vediamo se gli sgherri non vanno nel cerchio della regina abbiamo tristato lo stesso fortuna però perché non sono stata capace di andare a gestirmi bene ok abbiamo tristato lo stesso non ci posso credere ma neanche me ne sono accorta che era ancora viva la regina sinceramente vabbè comunque ci è andata bene però mi è piaciuto l'attacco quindi diciamo che non ne faccio un altro perché mi è proprio piaciuto l'attacco ecco come è andato un pochino tutto il resto non per il fatto che la regina è viva ho sbagliato tantissimo perché la regina deve morire possibilmente all'inizio per evitare appunto che vi va a scoppiare tutte le mongolfiere avete visto sono morte tutte alla fine quindi ci ha salvato però che il resto era pulito e gli sgherri hanno finito di pulire bene comunque voi se attaccate con questa tattica buttate giù subito la regina non fate come ho fatto io a questo punto direi di andare avanti con gli attacchi vi porterò altri due attacchi come al solito e vi farò vedere quindi altri due attacchi ci rivediamo dopo per i saluti ciao 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 rieccoci qui ragazzuoli abbiamo finito anche questo video anche per oggi purtroppo è tempo di salutarci ma mi raccomando non vi perdete i prossimi video ci rivediamo alla prossima ciao ciao